Buono, buono davvero. E' un contesto meraviglioso, ti riporta indietro nel passato, questo è uno strumento nuovissimo, ma in realtà si lega tantissimo con le sonorità di quei tempi. Sono veramente stupita. Molto interessante, molto gradevole, possiamo unire due mondi completamente diversi ma anche molto belli, quindi l'assaggio del vino in posti, in location veramente splendide. Musica 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 Musica